per gli uffici, per il market e per l'ufficio l'abbiamo ricevuto in dono dalla BIPER per quanto riguarda gli uffici e da Nordi Conad per quanto riguarda invece il market oltre che il programma gestionale dal Lions e dall'SVM, dall'Associazione Servizi Volontariato di Modena i Rotari invece ci ha donato due frigoriferi a parete insomma quindi questi 18.000 euro sono finalizzati all'acquisto di beni materiali che non abbiamo raccolto che non sono stati raccolti attraverso le donazioni perché comunque dobbiamo garantire un minimo di beni di prima necessità per le prime 60 famiglie perché nel regolamento il primo accesso è numericamente destinato a previsto in 60 famiglie poi diventeranno 90 però all'inizio partiamo con questo numero e dobbiamo garantire una varietà anche di beni di prima necessità per cui saranno destinate questa somma è destinata all'avvio e appunto all'acquisto di beni direttamente anzi mi sono dimenticata di dirlo prima sareste invitati ma dovreste portare una bottiglia d'olio o un bagno schiuma o un prodotto per l'igiene personale perché siamo un po' a corto di questa tipologia i finanziamenti ad oggi compresi quindi i beni che andremo ad acquistare direttamente e l'affitto dei locali sono coperti dalle risorse del fondo sociale locale quindi per il momento l'abbiamo realizzato con dei contributi che ci sono venuti dalla regione e oltre ripeto alle donazioni alcune delle quali vi ho citato per il futuro presumibilmente ecco è abbastanza difficile sicuramente la spesa dell'affitto e anche della convenzione che abbiamo con il CSV per avere una figura di coordinamento diciamo così continuativa fissa che non sia appunto legata specificatamente al mondo del volontariato a un'associazione che per definizione dà il tempo che riesce a dare invece abbiamo bisogno di qualcuno che garantiscono una continuità nel coordinamento delle attività e invece per quello che riguarda l'acquisto dei beni molto dipenderà da quanto riusciamo a raccogliere appunto attraverso le donazioni o attraverso le raccolte alimentari quindi insomma questa cifra diciamo che può valere per sei mesi e quindi in un anno andrebbe circa raddoppiata ma sempre con la copertura del fondo almeno insomma finché ci viene ci viene riconosciuto insomma allora è in via caselline dove ci sono anche i locali del centro per le famiglie dove c'è il centro per gli stranieri dove c'è il caspita il negozio del caspita dove c'è l'Inps è tutto lì buonasera a tutti io mi volevo ricollegare ai centri estivi e volevo fare una richiesta informare anche un po' questo consiglio e fare una richiesta alla giunta visto che ha già dato le linee per quei 320 mila euro in più che ci sono arrivati allora sembra che nel nostro territorio riguardo ai centri estivi abbiamo un problema che è quello che non riusciamo a garantire il servizio degli insegnanti di sostegno a tutti i ragazzi certificati che abbiamo mi spiego meglio il centro estivo come diceva prima la Emilia Moratori è a carico cioè non è più un servizio che diamo a noi ma è dato delle associazioni che sono riconosciute in un album quindi chiunque va al centro estivo paga la sua retta settimanale che se non vada errato sui 110 euro alla settimana se non vada errato sì comunque nel territorio dell'Unione ha super giù 10 euro in più 10 euro in meno il problema perfetto il problema nasce o può nascere anzi sicuramente nasce in quei casi dove ci sono siamo in presenza di ragazzi certificati perché per poter accedere come ragazzo certificato al centro estivo c'è bisogno di avere un insegnante di sostegno per questo motivo l'Unione Terra di Castelli la giunta nel 2017 con la delibera 53 ha segnato 55 mila euro per vedere di supplire questo tipo di problema insomma di venire incontro anzi di permettere a questi ragazzi che molte volte sono c'è per loro il centro estivo è fondamentale specialmente per un per un ragazzo autistico c'è il rischio che regredisca stando da solo a casa isolato vi faccio presente che le scuole finiscono il 7 giugno e riprendono il 14 comunque abbiamo circa 14 settimane di buco di scoperto 13 14 settimane io ho ragionato sulle 14 sono 13 comunque due settimane sicuramente la famiglia riesce a supplire perché presumo che quasi tutti quanti due settimane di ferie le fanno ci sono in molti casi ci possono essere in molti casi stanno venendo fuori almeno un è venuto fuori molto fuori anche la stampa che questi 12 mesi con i fondi che abbiamo messo disponibile sembra che non riusciamo a coprire questo tipo di servizio e vi faccio anche alcuni esempi allora questi ragazzi sicuramente hanno bisogno di stare all'interno di un centro estivo almeno otto ore probabilmente anche di più perché se la famiglia lavora ci sarà bisogno di più di otto ore quindi diciamo le 400 c'è che hanno bisogno delle 50 ore settimanali e con i soldi che noi abbiamo abbiamo messo a disposizione considerando che il servizio dobbiamo cercare di poter dare il servizio almeno per 12 12 settimane riusciamo a coprire 16 casi a 1100 euro lordi per educatore oppure 12 casi a 1500 euro per educatore qua c'è anche un altro problema di quanto vengono pagati questi educatori perché quando ho visto le cifre mi sono anche un po' informato su internet ci sono anche rimasto un po' male perché sembra che un insegnante di sostegno un insegnante in un centro estivo guadagna sulle 700 euro mentre un educatore 600 quindi abbiamo anche degli stipendi che sono a livello delle cooperative della carne francamente mi ha trovato anche un po' spiazzato questa cosa il problema è che sembra visto che c'era anch'io giovedì scorso all'incontro con i genitori che hanno fatto con la dirigenza sembra che nel territorio dell'unione ci siano 46 soggetti che potrebbero avere questo tipo di necessità molti non si palesano anche perché c'è un discorso di vergogna molte volte sono anche delle famiglie almeno quello che ho accompagnato io in unione che mi ha chiesto di essere accompagnato in unione che non sapeva neanche alcuni suoi diritti cioè servizi che già gli diamo come il pasto differenziato queste cose però da vedere così mi sembra che c'è il rischio cioè prima di allocare oppure oltre allocare i soldi per diminuzione della retta vi chiedo e chiedo al consiglio se non sia il caso di fare magari di istituire una commissione per capire quanti casi abbiamo in questo modo per vedere se c'è veramente questo tipo di problematica adesso che andiamo incontro alle stati quindi fare anche un'operazione velocemente perché magari se c'è bisogno di aggiungere 10 20 mila euro per assicurare ai soggetti più deboli che comunque pagherebbero la retta per andare all'interno del centro estivo perché il genitore si paga la retta per andare al centro estivo noi gli assicuriamo l'insegnante d'appoggio penso che questa sia un'attività assolutamente da percorrere mi auspico da auspicare e dobbiamo secondo me cercare di fare di tutto il problema lo sto facendo in questo momento in questo modo forse poco ortodosso perché il problema che le scuole la prossima settimana finiscono quindi inizia il problema e sembra facendo un giro insomma anche parlando ci hanno questo a questa famiglia che si è avvicinato alla dirigente è stata mandata e gli è stato detto di andare ai servizi sociali sapendo già che però avendo due persone che lavorano non riescono non riescono comunque ad attingere hanno tre figli quindi tre centri estivi quindi pagano già 360 euro per mandare i figli al centro estivo anche se due persone lavorano sicuramente non ce la fanno anche a pagare gli insegnanti d'appoggio non sono tanti casi però bisogna che secondo me pensiamo di verifichiamo se sono se siamo abbastanza capienti con la voce che abbiamo che abbiamo allocato e se non lo siamo io vi chiedo vi chiedo di valutare di andare in copertura grazie rispondono il presidente moratore poi l'assessore pelloni ecco io rispondo perché mi sono occupata di questa questione l'anno scorso quindi nel 2017 quando la delega all'istruzione quindi in cui rientra anche il centro estivo era diciamo vacante quindi non mi sono mai proprio direttamente occupata di questa questione ma appunto l'anno scorso sì in maniera più approfondita e funziona in questa maniera premesso che ripeto l'attenzione è sempre stata in continuità rivolta ai ragazzi con appunto delle disabilità questo è sempre stata una un'attenzione già quando era l'unione stessa che organizzava e anche appunto attualmente questa insomma diciamo questa sensibilità e questa attenzione si è voluta mantenere allora i centi estivi iniziano il giorno dopo la fine della scuola a Marano almeno è così ma credo che sia così ovunque quindi dal set finisce la scuola che è sabato direi il lunedì iniziano i centi estivi l'anno scorso c'eravamo organizzati insieme con i referenti dei centri in questa maniera che chi aveva figli con disabilità ragazzi con disabilità doveva iscriversi immediatamente anche dal primo giugno avevamo dato adesso vado un po' a memoria avevamo dato mi ricordo se la scadenza proprio esatto esatto avevamo avevamo dato una scadenza adesso non ricordo se era il 30 maggio il 20 maggio in cui si segnalava la necessità di avere un sostegno e di quel budget avevamo comunque tenuto una quota per chi magari solo in ritardo diciamo rispetto alla scadenza che davamo quindi per prudenza si fosse deciso a iscriversi considerato che comunque facciamo sempre riferimento per avere un'idea della quota della cifra da mettere in bilancio allo storico diciamo così quindi facciamo un po' una media cerchiamo di capire rispetto a quello che è stato l'anno precedente quanto potrebbe essere l'entità della richiesta a fronte del fatto che 46 casi appunto sì più o meno saranno sicuramente quelli o comunque insomma più o meno il primo anno erano sicuramente meno perché appunto non c'era questa informazione stiamo comunque parlando di ragazzi certificati quindi il tema della come dire della ritrosia a dire insomma a scrivere e a dichiarare nel momento di iscrizione che ragazze delle disabilità non esiste perché sono ragazzi certificati quindi significa che hanno fatto un percorso anche a scuola eccetera eccetera quindi questo non è non può verificare verificarsi il caso di ragazzi che non conoscono o che magari hanno qualche pudore insomma dire a dichiarare la disabilità perché sono ragazzi solo ragazzi certificati e quello che riusciamo a fare o almeno quello che siamo riusciti a fare finora dandoci appunto un criterio è di favorire la frequenza gratuita di questi ragazzi al centro estivo con evidentemente il sostegno per due barra tre settimane finché ce n'è non so come dire ecco possono essere anche può essere che ci sia anche la possibilità di fare qualcosa in più questo è il contributo che siamo riusciti a dare finora se dovessimo coprire per otto ore al giorno o anche più come si diceva cinque giorni la settimana per tredici settimane o anche per dieci settimane occorrerebbe una cifra veramente importante perché insomma gli operatori che in questo caso sono educatori insomma quelli che poi utilizziamo anche per la scuola per l'appoggio per il sostegno scolastico sono insomma educatori hanno un costo orario perché poi sono in regola evidentemente e obbligatoriamente quindi hanno un costo orario significativo diciamo quindi diventa un costo veramente molto importante non è che non si può fare bisogna trovare le risorse per poterlo fare quindi diciamo che la offerta che viene al cittadino che viene